Visto che fa così tanto caldo, perché oggi siamo stati tutto il giorno in giro a scoprire la nostra ciocciaria, le nostre cucine, le nostre ricette, adesso è ora di un aperitivo. Quindi vediamo praticamente come può funzionare uno dei posti nel centro del Frosinone. Andiamo alla zona di Mateis e noi adesso ci faremo preparare un aperitivo a sorpresa per rinfrescare un po'. Finalmente siamo arrivati, giustamente è ancora un po' prestino per l'ora dell'aperitivo, però per me inizia a essere tardi, perché è da questa mattina che sono in live. Ciao Massimo, ciao Simona, come stai? Tutto bene? Tutto al posto? Allora io ho tanto caldo, ma che mi prepara? Un cocktail di quelli deliziosi che stai preparando di te? Diciamo fresco. Voilà, che cosa è? Un cocktail delizioso. Delizioso si vede. Ciao.